dal vecchio così iniziamo questa avventura dove ci porterà chi lo sa la faccia deve fare che mi prendo questa roba qua la notte la notte pazzo pazzo all'anima sua Giulie ok quasi continuano ad andare a cassa ragazzi in sto gioco qua eh ok vorrei già rifinarsi un vorrei già rifinarsi un cavallo ah no adesso diciamo cos'ha mancare così armi ah ma quindi fantastico questo cambio qua di io so qua non ho stallone qua fa molto giordi di andrei sellati su bianco no lì era sellati su bianco cavallo sellati su cavallo dalla bianca criniera ancora è un cavallo per creare un legame con esso accarezziamolo così si instaura ancora di più il legame con questo cavallo grande sellone ok vai basta ok riusciamo andiamo a cassa queste scene di intermezzo io gioco con quello di che risposta la 60 vai tranquillo vai chi è che è che è bellissime queste scene qua dintorno al mamma mia ragazza quando vogliono andare a caccia porco zio tanto in giro per la pratteria che bello deve essere i tempi comunque chi è andato negli stati uniti ai tempi ragazzi figa ciao ciao proprio ma ciao ma ciao ne proprio che chi era negli stati uniti ai tempi e proprio daone malagrande tastiera e maur è data sia la ragazza che ha una interagisci cambio visuale di me c cambiano visuale c e piedi vai avanti indietreggia muoviti a sinistra salta in modalità corpo corpo f scatta rallenta interagisci con animale g preghi il cavallo b mutri avanti ok ok Ok, depositiamo sto cavallo qua. Ragazzi, qui si comprano cavalli, eh? Hai papi? No, no papi. Sì, ovviamente, questo va a effettuare ciò che posso pagare. Ma, il tuo gioco è in. Ho un ragazzo che ha cercato per un corso decente lavoro come questo per un tempo. Paglia un buon prezzo. Inoltre, io potrei fare un salto per te. Vediamo cosa si propone lo shop. Allora, Shire, vendi o stare il cavallo? Se solo questo. Eh, pensi a quello di prima. E comunque va bene anche sto qua. Stagliamolo. Morgan. Olandese a sangue caldo. Figa olandese a sangue caldo. Puro sangue inglese. Ardennese. Vabbè, la Madonna, ma che figa. Morgan. Figa olandese a sangue caldo. Adesso, puro sangue inglese è mio. Allora, prendo un po' lo sangue inglese figli. Questo qua è un trabicolo che non va un cavolo. Bene tutto. L'Ardennese. Standard. Allora, prendi l'Ardennese standard. Pompelmo. Artax. No, si. Artax. Figa. Artax. Pelmo. Succo. Lo chiamiamo. Quinti servizi. Quinti servizi. Quinti servizi. Bisazio. Eh cazzo. o anche redlock la naturale siamo la cosa naturale coda ma naturale ma corta o ma che normale servizi è per la cura del cavallo diamogli un po di cura anche puro sangue inglese gratis perché è ordinato il gioco la vista è per cavale andiamo andiamo a riuscire a cazzo questo cavallo qua pattini questa signora ah ce l'abbiamo easy peasy ok adesso abbiamo il cavallo missione ancora ancora com'è niente eh vabbè dai e se è tutto oltre si ma bianco tanto uno vale l'altro è tutto oltre ma questa volta stiamo facendo la cazza quindi come sono le cose con te e John bene non è quando ti lasciate andare è stato un anno è stato un anno mi dicevo è tanto in alto via la visuale quella dinamica non è marino no 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 tono in salata inizia la serie di quiz sempre che sia disponibile sempre che sia disponibile cale marino non deve essere male questo DLC marino che cavallo mi sta portando sto qua non è Questa è l'alto lì, bravo, abbiamo fatto! Passiamo per l'altra parte! Quindi cosa pensi di Sean? Hai pensi che sia bene? Chi lo sa, sicuramente spero. Ma è stato un po' ora. Alcuni dice che si è stato scoperto in Blackwater. Si, ma non so se si è stato scoperto o scoperto. Se c'è una cosa che Sean Maguire è buona, è la scoperta di cose. Si. Credo che non sappiamo niente fino a che sappiamo. Guarda qui! Rappi! Potremmo dovremmo prendere uno a fare. Certo, provo a prendere uno. Non vuoi usare qualcosa di più potente su un piccolo animale come questo. Solo rinforzare la carne. La migliore cosa è un po' o un rifle di 22 calibre. Chi sarà sto? Sì. Sì. E l'obliterato con una scoperta, se ricordo bene. Sì. 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 prima che allucinati me lo aspettavano il coniglio così subito pronti osea ho preso un coniglio e se il 19 dicembre e va bene marino consolati ai 19 dicembre figo detto 19 di novembre pensavo io e beh effettivamente e non so che c'è tra me perché se la prendo in comoda vuole che fate un po' mio dio qua è un gioco da usare con la tastiera sto qua è veramente veramente agghiacciante sto gioco qua da usare con la tastiera questo gioco qua è ideato con i controlli per il pad cuciniamo non ci sono le scatolette di tono qua ragazzi ricette carne di selvaggine ah va bene ok perfetto basta basta cucinare alla fine non cucino a casa secondo te deve mettermi a cucinare qui beh fammi fare il caffè non è proprio banici monizioni dinamite dinamite vabbè 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 andiamo a dormire lo scorre vabbè vabbè lo scorrami incessante del tempo un paese vabbè 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 e qua si va a cazzare grosso che è ancora cucinata pesca potente per predatori si creiamola subito andiamo con questo esco potente cosa tranquilla fighe signora è fighe si diverte a dare gli ordini ciao un po la vita questa modalità qua di visuale da rinominare modalità cinema colleghi la mente e bye bye ciao potremmo tutti potremmo avere un nuovo inizio comunque per ora proviamo a cercare di rinominare una bera proviamo a guardare l'acqua qui e vediamo se è stato pescato ancora recentemente montiamo la cavale e vediamo un po' cosa riusciamo vediamo le ane, dovevamo prendere qualcosa di grosso vabbiamo a dare un'altra tradizione un po' cosa ne vado a fare chi vena ademo a dare un po' di nuovo che si vanno a fare un po' di nuovo a fare un po' di nuovo le entrate subito vediamo le tracce vediamo cosa portiamo a casa qua sembra grosso vediamo un po' vediamo un po' ho trovato il primo indizio come on see if there's anything else vediamo un po' con un altro indizio prima con il coniglio mi sono fatto trovare impreparato ma adesso con orso è meglio non farsi trovare impreparato vediamo un po' per ora per ora vediamo un po' 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 eh beh un paticone oh ma oh anche f***a falco zio f***a mazzato solo beh sì che sei beccato una pistola in testa due colpi nel ventre uno nel lato B è scappato va bene che è un orso ma è mica Elander è mica immortale è un orso non è un carro armato f***a un colpo in fronte con la pistola va bene è un orso f***a uno due nella pancia uno di è scappato trattratratratratratr